buonasera allora seconda puntata delle lezioni estive per riprendere in mano i fondamenti di economia che magari qualcuno si è perso in un po di anni che spieghiamo cose sempre purtroppo non mi vedete al meglio dalla convalescenza ma faccio il possibile allora chi ha seguito la lezione cina fa un po fa un po fastidio parlare di lezioni perché sembra chissà che la chiacchierata di ieri sera ha capito o quantomeno spero abbia capito la funzione della moneta la funzione della moneta e la storia che ha portato poi alla realizzazione della moneta così come l'abbiamo conosciuta sempre ora nelle cose che vi ho detto ieri c'è stato un punto però che spero vi abbia incuriosito quantomeno che vi ricordate vale a dire che la moneta per la comunità interna non è un problema vale a dire possiamo scegliere qualsiasi cosa perché diventa un'unità di misura diventa un'unità di conto e possono essere le conchiglie possono essere quello che è e non era sostitutiva del baratto bensì era sostitutiva del debito e del credito il baratto invece si va a dire lo scambio fra merce e merce si faceva fra comunità distanti vi avevo fatto l'esempio delle carovane dove qualcuno portava le pelli dal nord e l'altro portava le spezie dal sud o qualcosa del genere si incontravano in un punto e le scambiavano merce contro merce bene in quel caso solo in quel caso stiamo dicendo che c'era il baratto ovviamente si scambiava merce di valore cosa si intende merce di valore si intende ovviamente qualcosa che con una certa qual fatica si riusciva ad ottenere e quindi veniva utile scambiarlo perché ricordate poi quanto vi avevo detto con marx vale a dire tutto può essere riportato no come unità di valore all'unità di lavoro vale a dire quanto quanta fatica quanto tempo quanto sudore alla fine ci si mette per ottenere un qualcosa bene che cosa succede se io voglio far entrare la moneta nello scambio estero vale a dire in nel baratto a un certo punto io mi trovo magari dopo aver fatto viaggi di chilometri dentro per deserti per le foreste con le tigri con i denti a sciabola e similari arrivo alla fine al mercato arrivo alla fine al punto d'incontro dove arrivano quelli del nord e si incontrano quelli del sud o quelli dell'est insomma popoli lontani e lì può capitare che uno voglia veramente qualcosa di un altro ma non abbia di che merci che lo soddisfano tali per poterlo acquistare nel villaggio come abbiamo detto si segnava debito a credito il caro vaniere chi lo vede più quindi è possibile che sarebbe molto comodo diciamo così inserire dentro in questo sistema degli scambi la moneta in modo tale che dice guarda va bene tu sei arrivato con le pelli di fuoca io sono arrivato con le spezie non non ti piacciono però accetteresti la moneta e qui arriva al punto mi raccomando state attenti perché tutte queste cose che io vi sto dicendo adesso poi alla fine vedrete che si comporranno come un puzzle in modo tale da avere tutti i puntini che si uniscono e capire anche cosa perché parliamo di euro perché parliamo di sovranità monetaria perché parliamo di moneta ora la moneta che ci serve per acquistare i beni di qualcun altro non è la nostra va a dire se io arrivo con la mia moneta può anche essere bellissima ma non è quella che mi serve per comprare i beni di un altro per comprare i beni di un altro bisogno della sua viceversa se lui vuole comprare i miei beni ha bisogno della mia non è che sto dicendo un gran concetto e voi immaginate che arrivi uno svedese nel negozio vi vuol comprare un litro di latte con le corone svedesi saranno anche belle saranno anche buone ma in mancanza di un immediato intermediario che te le cambi tu non le prendi tu vuoi gli euro in questo momento se avessi le lire vorresti le lire bene perché veniva bene l'oro l'oro veniva bene perché era uguale per tutti l'oro inteso come unità di peso di moneta utilizzato per la moneta quello diventava rapidamente universale come sistema di scambio voi giusto per capire che conta l'oro e non conta la valuta in cui è espresso immaginate la sterlina d'oro non so avete presente magari ve le regalavano per la comunione per la cresimo così questo tipo magari le avete ancora da qualche parte qualche in qualche angolo di casa la moneta d'oro più comune ai giorni nostri è la sterlina d'oro da una parte c'è la faccia di elisabetta no e vale una sterlina cioè il valore una sterlina segnato il valore facciale valore nominale ma quel valore reale della sterlina d'oro beh il valore reale della sterlina d'oro è il peso in oro quindi in questo momento per dire con il valore attuale dell'oro il valore di una sterlina anche se c'è scritto una sterlina è 400 euro quindi 370 sterline quindi c'è scritto una sterlina ma non c'entra niente il valore vero no dato che è fatta in oro e che quindi è riconosciuto da tutti è quello del dell'oro per questo l'oro è stato per tantissimo tempo lo strumento di base no per poter valutare le monete e allora cosa succedeva si creavano i cambiavalute cambiavalute cosa facevano semplicemente tu arrivavi con le tue monete le tue monete avevano un peso differente rispetto alle monete di qualcun altro magari nel tuo scudo di pavia c'erano 20 grammi d'oro dall'altra parte invece c'era uno che aveva il talento di brescia e dentro di grammi d'oro ce ne erano 22 allora quel punto no se tu dovevi comprare una cosa con delle monete che fossero valide nel da da parte di del mercante che che ti stava offrendo il materiale dovevi avere la sua moneta e la sua moneta potevi cambiarla con il valore del del con il valore dell'oro e allora i cambiavalute cosa facevano si mettevano lì con la loro bella bilancina e dicevano tu quanto mi dai allora ok per queste per queste monete io ti do in cambio queste ed ecco che io potevo tranquillamente affrontare uno scambio nel luogo di mercato dove arrivavano le carovane in modo tale da poter scambiare la mia merce e se potevo scambiare direttamente merce per merce tutti contenti qualora non avessi potuto direttamente scambiare merce per merce non c'è problema perché probabilmente avrei avuto un sacchettino di monete d'oro che tramite il cambio a valute avrei potuto darlo al venditore in modo tale da potermi comprare in ogni caso la merce che mi offrivano in cambio delle mie monete monete d'oro a quel punto ecco qua il passaggio successivo ma una volta che noi usciamo dal famoso gold standard vale a dire dal sistema dove tutti gli scambi e tutte le monete venivano regolate in oro no e così via e siamo in moneta fiat quindi in una moneta che in realtà non ha come sottostante il valore dell'oro ma semplicemente il valore dell'economia del paese sottostante come faccio io a gestire gli scambi con l'estero e vedete che qui cominciamo arrivare con i cambi delle monete perché i prezzi delle monete si fissano con la legge della domanda dell'offerta chi vende una determinata moneta chi compra una determinata moneta e i prezzi si formano in modo relativo non c'è un valore assoluto dell'euro non c'è un valore assoluto del dollaro il dollaro vale un certo numero di euro l'euro nelle sterline valgono un certo numero di yen no e così via tutti in rapporto l'uno con l'altro si cambia si chiamano i cambi delle monete ma proprio perché si chiamano cambi quindi non è un valore è un cambio perché dice quello che un cambiavalute virtuale che si mette nel luogo di mercato virtuale che ormai è tutto ovviamente interconnesso e quindi ma il sistema ma il principio è esattamente quello nel momento stesso in cui tu arrivi per comprare le merci di qualcun altro a quel punto vendi la tua moneta quindi dai le tue le tue monete per comprare le monete di quell'altro una volta che hai in mano le monete di quell'altro gliele puoi dare in cambio della merce facciamo un esempio banale se per quale motivo io dovrei mai comprare delle corone svedesi l'unico motivo serio per cui posso comprare delle corone svedesi ovviamente se devo comprare delle merci fatte in svezia o se devo andare in svezia altrimenti non è che io mi sveglio la mattina e dico ah guarda avrei proprio bisogno di corone svedesi a meno che non voglia provare a specularci sul prezzo quindi supponiamo che io debba comprare una partita di notti mobili di noto produttore di mobili di bassa qualità no fatti in fatti in svezia allora a quel punto cosa succede succede che venderò i miei euro per procurarmi delle corone svedesi onde comprare la partita di mobili e rifornire il mio negozio ci siamo quindi cos'è che da valore internazionale a una moneta il saldo commerciale vale a dire la differenza fra quello che è la domanda e quello che è l'offerta della tua moneta probabilmente per la grande parte dovuta agli scambi commerciali questo cosa ci dice ci dice che se noi non produciamo niente e qui arriviamo al famoso qui arriva il famoso clic che no quindi se noi non produciamo niente perché siamo il famigerato zimbabwe ecco che la nostra moneta non vale niente perché nessuno vuole una moneta la moneta dello zimbabwe internazionalmente perché a meno di non andarci c'è qualcosa se non erro credo forse le cascate vittoria o qualcosa del genere da andare a visitare però non credo che sia sufficiente per poter sostenere l'economia di un paese oppure altrimenti non non vale nulla se io sono un paese che è abituato a comprare cosa dall'estero e magari gli do in cambio il petrolio come caso di un'altra roba che normalmente da origine a il ban sulle mie pagine twitter vale a dire il venezuela e beh allora cosa succede succede che io normalmente il valore della mia moneta è dato dal petrolio da quello che io riesco a vendere se il prezzo del petrolio scende anche il valore della mia moneta svanisce e quindi io ne posso stampare quanto ne voglio ma se non ho prodotti miei da vendere all'estero mi spiace ma niente da fare e qui poi arriveremo al motivo vi spiegherò poi nei prossimi giorni del perché noi potremmo permetterci di sostenere la sovranità monetaria perché noi prodotti da vendere all'estero ce li abbiamo al contrario di tanti altri quindi in una maniera o nell'altra il punto è abbastanza semplice moneta scambi internazionali visti in questa maniera valore della moneta in rapporto a un'altra moneta sono derivanti dagli scambi che ci possono essere e dai prodotti che tu puoi vendere rispetto agli altri e devono essere possibilmente pareggiati rispetto ai prodotti che tu compri dagli altri e poi arriveremo e ne parliamo domani invece al ciclo della moneta all'interno di un singolo paese perché anche il circolo della moneta del risparmio ha bisogno di essere trattato perché sennò altrimenti l'equazione e il puzzle non si completa comunque spero che qualcosa si stia cominciando a intuire ecco del perché e del come mai certe sciocchezze che vengono dette in giro su cariole di monete li retta e cose di questo tipo non hanno significato